Buongiorno amici, siamo ancora nel campo delle pillole dedicate alle combinazioni di elementi al fine di creare gusto e attrazione specifiche. Abbiamo lasciato perdere fin dalla prima pillola il discorso sui nutrienti, che è comunque importante, perché l'abbiamo finalizzato in un qualcosa di più selettivo, visto il costo specifico degli ingredienti di cui parliamo. In questa pillola, però, veniamo a trattare due ingredienti di cui uno, tutto sommato, appetibile in termini di costi, per creare quindi una perfetta all-around da gestire se servono anche quantitativi. Questa perfetta all-around è impostata sulla combinazione del lievito, cioè un elemento meccaro, che apparentemente adesso usano tutti, per l'amore di Dio, ma che insomma ritengo di aver trattato in maniera piuttosto precisa e concreta per primo a livello sia di web e trovate le date dei miei interventi nel mio blog, così come averlo fissato sulle pagine dei miei libri, che trattano in maniera molto esaustiva il lievito nel libro The Weight Guru, che tratta proprio tutti gli ingredienti a puntino e le ricette con il lievito, ce ne sono molte, nel libro Boily, istruzioni per l'uso, che invece vi dà le ricette in funzione del tipo di azione che dovete fare, ricette per la gara, pescate veloci, pasturazione, condizionamento, eccetera, eccetera, eccetera. Chiusa questa premessa, diciamo che il lievito non è né un animale né un vegetale, se volete capire cos'è andate a leggere sul libro o a rifrescarvi le pillole, dove ne parlo, ce n'è più di una, qui sul mio canale YouTube. Basta che cercate, nella barra di ricerca di YouTube, Sergio Tomasella, lievito, e vengono fuori tutte le possibilità. Il lievito quindi non è né un animale né un vegetale, è un fungo, con delle caratteristiche importanti, cioè avere uno spettro aminoacidico molto simile alla carne, ok? E quindi avere un contenuto anche nutrizionale decisamente importante. L'ingrediente però è commercializzato sotto varie forme, ci sono gli estratti di lievito, che sono sia solidi che liquidi, che sono un concentrato dell'interno della cellula del lievito, che hanno costi, insomma, abbastanza importanti, diciamo nell'ottica di una buona farina di pesce comunque, non è un ingrediente costosissimo. E poi ci sono quei mangimi che io ho scoperto moltissimi anni fa nella mangimistica per equini, per i cavalli da corsa e da salto, sono mangimi energizzanti, composti sia del lievito, le cellule morte del lievito, che dei cereali su cui è avvenuta la fermentazione dei lieviti, su cui sono stati cresciuti i lieviti, che in genere vengono allevati sulla melassa oppure sui cereali per scopi specifici, per tradurli in mangime direttamente oppure per produrre, per esempio, la birra, ok? Questi lieviti che in mangimistica vengono definiti lieviti con trebbie, trebbie è il nome tecnico dei cereali fermentati usati per produrre il lievito o per produrre la reazione sul lievito, sono un ingrediente molto interessante perché ha un costo fra i 3 e i 5 euro al chilo, quindi stiamo parlando di costo di una farina di pesce economica e ci permettono quindi integrazioni molto alte. Io potrei creare un mix che chiamo per comodità beer food, ma dove lo spazio del pastoncino, che in realtà impegna nei beer food almeno il 20%, 30-40% della miscela, può essere tutto impegnato dal mangime di trebbie che ho i lieviti, che si trova anche sotto forma di pellet, qualcuno anche affondante, che quindi potrei anche sbriciolare per mettere nei sacchettini come concetto, senza rompermi tanto le scatole, e che possono essere macinati per ottenere l'ingrediente, che è venduto comunque anche in farina piuttosto grossolana, per questo lo chiamo beer food, perché la pallina che ne risulta ha un aspetto molto simile a un beer food mix. E quindi questa farina ha il 40% di proteine circa e contiene dei nutrienti molto simili a quelli della carne, e quindi mi permette di creare una pallina con una buona nutritività di base che posso quindi elaborare con un'altra piccola integrazione, e questa è la combinazione di cui sto parlando, di farine di pesce. La combinazione secondo me più bella perché validissima anche in acqua fredda, e ricordate che ciò che vale in acqua fredda vale certamente anche in acqua calda, l'unico problema di ciò che vale in acqua fredda è che in genere costa di più, ma in questo caso stiamo parlando invece di un costo tutto sommato accettabile, di un'elevatissima digeribilità, perché questo ingrediente, cereali fermentati e lievito, è assolutamente digeribile e metabolizzabile, anche sotto i 10 gradi d'acqua, così come lo è il predigested fish meal, che è una farina a bassissimo contenuto di grassi, con le proteine già scomposte. Ecco che quindi una combo 30-40% trebie lieviti e 10% predigested fish meal, mi permette di creare quello che definiamo, ma per nostra comodità, un beer food predigested fish, molto gustativo, che ci permette un utilizzo sia immediato, pronto pesca, potrebbe essere anche una bellissima palletta da gara, perché si può farla usando massimo 3-4 uova, anche particolarmente solubile, e quindi andarla poi a completare in termini di liquidi, o con i lieviti liquidi, che ho visto essere adesso facilmente reperibili, anche attraverso le aziende italiane, mentre non lo erano fino a poco tempo fa, e quindi creare una pallina full lievito, come si suol dire, ma che contiene anche la sapidità e l'intriganza attrattiva delle proteine del pesce scomposte, grazie al predigested appunto, oppure la strada opposta, cioè inserire il predigested liquido su una pallina partenzialmente solubile, che contiene la parte solida e intrigante dei lieviti, vi ricordo, ve l'ho già detto nelle altre pillole, che quando prediligo parlare di liquidi, è perché in un'esca solubile, dove il mix proprio si spapola e si scioglie, partendo dagli strati esterni, il fatto che ci siano degli ingredienti liquidi in grado di liberarsi quindi facilmente nell'acqua man mano che il mix si scioglie, ci permette di avere delle esche molto attrattive, ma non chimiche, perché questa che è comunque chimica in senso assoluto, non è chimica artificiale, non è chimica facilmente sgammabile, è una chimica estremamente naturale, perché le sostanze attrattive contenute in un lievito liquido in forma predigerita o comunque anche nel semplice fiagato liquido, vanno a occupare precisi recettori che la carpa sfrutta per trovare il cibo naturale e quindi la ingannano, la portano a una frenesia alimentare molto naturale, ok? Mentre invece se la mia azione di pesca è strutturata, cioè devo stare in pesca 12 ore con l'esca, non rilancio ogni ora come in gara, allora prediligo la parte solida del mix e quindi vuol dire che non c'è parte liquida? No, vuol dire che la componente uovo è completa, almeno 7 uova per chilo di mix e quindi la componente liquida ci sarà, ma non sarà preponderante perché ricordate che quando dico di mettere 3 uova, 4 uova per chilo, significa che avete altri 300 ml di roba almeno liquida da buttare dentro, per questo la proporzione diventa spostata verso i liquidi, mentre quando vi parlo di struttura solida e parliamo quindi di almeno 6-7 uova, la parte di liquidi che vi rimane è un 80-100 ml quindi capite che lì elaborate una normale ricetta di boile fatta di un po' di liquid food se volete oppure una sostanza zuccherina naturale che vada a dolcificare tipo lo sciroppo di glucosa o il miele, l'aroma, l'olio essenziale, cioè ve la giocate in questi termini, insomma. bene, il connubio lievito e farina di pesce LT è altrettanto valido e funzionale ma molto dedicabile ad esche con cui effettuare almeno una pasturazione preventiva di 4-5 gettate prima della pescata. queste ricette sono ampiamente trattate sia sul blog che sui libri perché sono ricette a buon costo che possono essere rullate neutre cioè solo con le uova e contenere quindi il budget della boile finale grazie all'eliminazione di robe costosissime tipo aromi dolcificanti, oli essenziali e liquid food. Alla prossima!